La manifestazione più riuscita della mentalità umanistica in termini di confronto con il classico si trova efficacemente espressa da Niccolò Machiavelli in una lettera scritta a Francesco Vettori, lettera nella quale Machiavelli esprime palesemente il concetto di confronto con l'alterità del classico, confronto necessario per la costruzione di una propria identità. Attraverso il confronto con l'altro, dice Machiavelli, la personalità si rinforza e soprattutto si fa più forte in maniera proporzionale a quanto sono forti le personalità degli autori con cui ci si confronta e Machiavelli si confronta infatti con figure del calibro di Livio e di Tacito e per questo la sua personalità ne esce rinforzata. Il grande pregio dell'umanesimo consiste proprio nella prospettiva storica. Virgilio, Cicerone e Livio sono messi a distanza storica e dialogano con l'umanista in un confronto funzionale al potenziamento della personalità dell'umanista. Il Medioevo aveva appiattito le personalità. È vero che se da un lato si leggeva Virgilio nel Medioevo è altrettanto vero che lo si leggeva cristianamente, cioè sulla base delle categorie culturali del pensiero cristiano. Virgilio, per i cristiani, era considerato una specie di precursore del cristianesimo e la stessa Pietas Virgiliana era un concetto interpretato in funzione di virtù pre-cristiana. Dunque il Medioevo aveva assorbito i classici latini in dimensione cristiana, conformando un'identità falsa, giacché mancava totalmente il dialogo confronto con il classico. L'umanesimo crea la prospettiva storica, secondo Garenne. Il classico è altro dall'umanista e l'umanista lo rispetta perché è un interlocutore di spessore con cui l'umanista deve confrontarsi. Lo stesso si può dire per l'arte medievale e quella rinascimentale. Nell'arte medievale tutte le prospettive sono schiacciate, e si perde la profondità, che è invece nota caratteristica dell'architettura e della pittura rinascimentale. Gli oggetti sono in relazione spaziale reciproca e soprattutto relazionati al soggetto che li osserva e che dispone di uno spazio profondo davanti a sé. Ciò che ha inaugurato la prospettiva rinascimentale in pittura, gli umanisti lo hanno trasposto nella cultura, mettendo il classico a distanza e collocandolo nella dimensione storica. Ma nel fare ciò, gli autori classici sono stati elevati a grandiosi interlocutori di altrettanto grandiosamenti. Nel Quattrocento Firenze è senza ombra di dubbio una seconda Atene, e rimanendo sulle posizioni di Garenne, quest'ultimo sostiene che sono proprio le lettere il mezzo che consente di ampliare la personalità, ben oltre la puntualità di una situazione, per rapportarla, dice Garenne, ad esperienze esemplari della storia umana. Gli umanisti non hanno letto solo i classici latini e greci, ma anche i padri della Chiesa e gli autori moderni come Dante o Petrarca, naturalmente moderni per i loro tempi. L'umanesimo, con testa Garenne, non si è sviluppato solo dall'analisi di Cicerone e Livio, in quanto gli umanisti leggevano e si confrontavano anche con i testi della patristica, con Dante e con Petrarca, che erano considerati i nuovi classici. Nella formazione umanistica rientra insomma tutta una serie di classici latini e testi cristiani, poiché quello che conta è una preparazione morale all'insegna più che di precetti della conquista di una consapevolezza critica della propria condizione umana. Se nella precettistica medievale l'autorità della formula ips ed icsit era un motto che valeva sopra ogni cosa, ovvero lo ha detto Aristotele e quindi va preso per vero senza contestazione, con l'umanesimo ciò che è fondamentale è il dialogo con tutti quanti coloro che hanno espresso tipi perfetti di umanità, dato che comprenderli fa scaturire in noi quanto c'è di più alto. In conclusione, per Garenne l'umanesimo non nasce dai contenuti in sé dei libri antichi, ma dall'atteggiamento con cui gli umanisti rileggono, atteggiamento che li pone come interlocutori dei grandi autori del passato. È inoltre un atteggiamento che si addice alla rinnovata vita civile delle città, ormai svincolate dai soffocanti legami feudali e relative strutture, una vita civile in cui i cittadini necessitano di essere formati e quando si parla di cittadini ci si riferisce alla nuova aristocrazia cittadina che si era formata con le industrie e con i commerci. Gli studi a humanitatis costituiscono insomma il mezzo migliore per preparare il buon cittadino e si profila così l'essenza dell'umanesimo civile. I classici non si leggono per erudizione fine a sé stessa, ma per creare la consapevolezza dell'uomo in quanto cittadino, in quanto membro della polis. L'umanesimo legge i classici nella loro eredità, latina o greca che sia, e li restituisce alla dimensione storica degli stessi confrontandosi con essa. Concludiamo con l'umanesimo civile. La prima fase dell'umanesimo, come già accennato, è conosciuta con la definizione di umanesimo civile. Uno dei maggiori studiosi dell'umanesimo civile, ovvero Christian Beck, afferma che tale prima fase umanistica è caratterizzata da quattro elementi costitutivi. La vita attiva, la socialitas, la libertas e la dignità dell'uomo. Per quel che riguarda il primo punto, quello della vita attiva, sicuramente una delle personalità di spicco nel panorama fiorentino è Colucio Salutati, cancelliere della Repubblica di Firenze, carica tutt'altro che secondaria dal momento che il cancelliere all'epoca coordinava tutta la vita politica della città. Salutati era poi una forte personalità e si diceva che le lettere scritte da Colucio Salutati fossero addirittura più pericolose delle spade nei combattimenti e fu proprio il Salutati che riuscì a salvaguardare la libertà della città di Firenze in tempi molto difficili. A tal riguardo, una di queste lettere è particolarmente significativa perché ci aiuta a comprendere l'importanza che Salutati attribuiva all'attivismo politico e nello specifico si tratta di una missiva indirizzata fra Giovanni degli Angeli, fonte che viene tra l'altro menzionata nel testo di Antonio Gargano in Infobox. Nella lettera in questione, la posizione di Salutati è piuttosto chiara, ma bisogna sempre considerare il pieno rispetto dell'interlocutore destinatario del messaggio. Coluccio Salutati, che può essere considerato una sorta di ponte fra Petrarca e l'umanesimo civile maturo, si rivolge ad un frate, emblema della mentalità medievale, scrivendogli che il ritiro dalla vita civile alla quale si preferisce il chiostro non porta beneficio a nessuno, poiché ciò che è davvero importante è vivere la vita all'interno della città. Nello specifico Salutati scrive al frate «E non credere che io mi sia mai affaticato per un vanto di vanagloria, come vedo tu pensi, ma per il desiderio intenso di sapere e di comunicare ciò che Dio mi ha fatto conoscere, per giovare agli altri e ai posteri, in qualche misura come altri hanno giovato a noi e al loro tempo. E mi sembra che ciò sia per i dotti non meno doveroso di quanto lo sia per i contadini il piantare alberi che debbano giungere ai loro discendenti. Tu, è cosa propria della santa rozzezza, giovi a te solo. Io mi sforzo di giovare a me e agli altri». Pur rispettando la scelta monastica e le posizioni cristiane, Coluccio Salutati definisce santa rozzezza la vita all'interno di un chiostro, in quanto giova all'atto pratico solo all'individuo, mentre chi prende parte alla vita politica si impegna di portare giovamento anche agli altri, ai propri concittadini. Nel «De nobilitate legumet medicine» lo stesso Coluccio Salutati si esprime in termini ancora più chiari, considerando che durante il famoso tumulto dei Ciompi, Salutati restò al suo posto e addirittura durante le pestilenze non volle mai recarsi in campagna per non lasciare Firenze e per non dare ai suoi cittadini l'idea che stesse fuggendo per ragioni egoistiche. Coluccio Salutati rischiò molto nel tumulto dei Ciompi e rischiò ancora di più con la peste, ma volle essere presente in ogni momento difficile della città di Firenze. E questo sarà un carattere decisivo del pensiero italiano da Machiavelli a Campanella a Vico, a dimostrazione che il pensiero italiano è capacissimo di interessarsi di rapporti umani, di vita civile e di storia. A Coluccio Salutati interessa lasciare ai posteri la conoscenza, la lezione delle cose umane, lasciando ai frati la contemplazione. Salutati rappresenta in modo eccelso l'esemplare di un attivista politico immerso nell'azione, nella pratica, nell'impegno che ogni sua azione possa essere di giovamento non soltanto a se stesso, ma anche alla sua famiglia, ai parenti, agli amici e alla patria. Gli umanisti sono infatti molto impegnati sul piano della famiglia, che è in un certo senso il primo nucleo della società. Basti pensare che Leon Battista Alberti aveva perfino scritto un trattato intitolato della famiglia, proprio per sottolineare quanto per gli umanisti la gestione del nucleo familiare, l'attenzione riservata agli affetti e alla cura dei figli, fossero importanti fattori, proprio perché la famiglia è il primissimo embrione della socialità. L'altro termine che ricorre è naturalmente quello di patria, perché il patriota è colui che si disinteressa di sé per interessarsi agli altri, è insomma un altruista, in quanto il patriota ama la comunità ed è pronto anche al sacrificio per il bene dei suoi concittadini. Gli altri punti descritti da Beck li esamineremo in un altro podcast. Arrivederci.